Musica Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario e Luigi Bowser Inside Story A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova e ultima puntata della serie Non farò le battaglie extra perché tanto alla fine sono solo una boss rush di tutti quanti i nemici che abbiamo affrontato principalmente con Mario e Luigi Niente Bowser E voglio appunto concludere questa serie con quest'ultimo episodio Prima appunto di fare questo episodio ho livellato ancora un pochino Niente di eccessivo, sono arrivato al 46 Giusto un attimo per ricalibrare ancora un po' la difesa di Bowser Niente di che Luigi e Mario sono tutte e due messi bene Dobbiamo fare solo un'ultima cosa con Bowser Niente di che dobbiamo solo prendere gli oggetti che ci sono in questa zona qui Allora una stella mella e 100 monete Più vediamo da questo lato monete, certo che sono monete E secondo me l'ultimo oggetto che troviamo è una sveglia rivincita No, è un magi sciroppo Ah, aspetta, lo so io perché non l'abbiamo trovata Eccola qua infatti, lo immaginavo, lo immaginavo Ci siamo Zona finale, fiamme oscure Inizia a essere buio Sei mio finalmente I poteri delle tenebre si sono risvegliati da un lungo torpore I sigilli stanno per sciogliersi Trema A me non frega niente Della storia, del gioco Io sono qui solo per ascoltare la musica finale Mamma mia Ehi, che succede? Oh cacchio, ah! E' stato tutto ricoperto dalle nuvi Monsieur, monsieur ci aiuti La prego Peccato che non hanno fatto vedere i fuffi blocco all'interno delle bolle Ma cosa? I poteri delle tenebre riescono a fare solo un po' di arietta Non mi fai paura E' giunto il momento della battaglia finale I poteri delle tenebre si avverso fin qua giù Oh, Cosma Qua fuori si sta scatenando il finimondo Mi spiace che tu non possa vederlo Ehi, ho un favore da chiederti Ti sembra il momento? Mentre combatti Non dimenticarti di noi Che vuoi dire? Ti daremo una mano da qua dentro Lo sconfiggeremo assieme Ma cosa? Mi sembra di aver sentito la voce di Mario del baffetto verde Eh sì Non sono qua da sola qua dentro Cosa? Cosa hai detto? Sono qua giù Dentro di te Ci sono Mario e Luigi Cosa? Non ho sentito? Ehi, Cosma Chi c'è lì con te? Comunque, io, noi, insomma Non dimenticarci Ebbene, ti mancano le forze dinanzi ai poteri delle tenebre? A breve questo regno svanirà E anche tu sarai assorbito dalle tenebre per l'eternità Che bella atmosfera Hai preparato il palcoscenico perfetto per la battaglia finale Almeno è stile Bah, vuoi far sparire questo regno? Ma non prendermi in giro Questo regno è mio Sarei tu a sparire Che bella sta musica Maledizione che bella Mi dispiace quasi dover fare dei tagli al video ogni volta che facciamo sti combattimenti Ma devo passare ogni volta alla tavoletta grafica Ok, iniziamo già alla grande Ovviamente Vai, Fuffi, blocco Vai Ecco qua A posto, vai Vai, cagnolone Mi fa sempre ridere l'ultimo che arriva Eh, di già Sei già così stanco In ogni caso ti ho fatto più di quanto tu hai ricaricato, ciccio Beccati sto cazzotto, cretino Mi fa un sacco ridere ogni volta che gli tiro un pugno nello stomaco per far sputare via il sogginio E ora Smashata di X Non mi è mai capitato di perdere questa parte qua Cioè contro la spirata contro Bowser oscuro Da quanto tempo sogginio? Vedo che te la cavi benissimo Allora, io non sprecherei già il doppio dei danni Ce lo usiamo dopo Allora, prima ci dobbiamo occupare degli occhietti belli Ok, Mario Tocca Mario Mario di nuovo Luigi Mario Mario Luigi Mario Ah, cavolo Peccato, peccato Però dai, almeno È già andato le gambe E ora Possiamo Possiamo occuparci Del nucleo della stella Ovviamente Con il doppio dei danni Ecco qua Via il mouse da qui Perché mi dà fastidio L'oltremondo La stella assalto L'oltremondo Dai Vai Luigi Spacchiamo quella merda Andiamo Mario Ok Sai qual è Il problema Di sta parte È che La stella È Più alta Ah, cavolo Per poco È più alta Dei nemici norma Di già Ma due Tre attacchi Orca puttana Non mi aspettavo Una battaglia così Così fast Cazzo Se eravamo pronti Che hai Ti vedo un po' palliduccio Alla fine ho vinto io Come al solito E adesso Ti finirò con uno Dei miei pugni speciali Preparati Kabum Kabum 365 Un pugno All'anno Insomma Eh la madonna Questo è quello finale? No? Ancora uno? Super pugno Di Bowser Vai Mamma mia Ma non mi aspettavo Sto finale Alla Superstar Saga Non mi aspettavo Di essere così Preparato Mi aspettavo Un combattimento Un attimo Un po' più lungo E vai Ho vinto io Sono stato sconfitto Ho atteso così tanto E sono stato sconfitto Cosa ti aspettavi? Sei solo una brutta copia Una copia Non potrai mai battere L'originale Bowser Le tenebre Nel tenebre Non sono bastate C'è chi può sconfiggere Sì Tu Hai Tu hai cosa? Perso E anche a sto giro Il castello di Peach È rovinato La stella oscura È finalmente sparita Eh già Non è stata certo Una passeggiata E oddio Ma la principessa Peach Sta bene Oh Hai ragione Ne ero scordato È l'occasione migliore Per aprire la principessa Peach Accidenti Perché non me ne sto mai zitta Perché Iscare Ah no Era su Ghigno Ancora vivo Cosa? Ma tu sei ancora in giro? Voi Come Cosa? Perché? Io volevo solo avere Questo regno Mi sono dato Mi sono andato Così tanto da fare Ho dovuto lavorare tanto Versare sudore Superare Debolezze E fatiche Inimmaginabili Ma voi Ma voi Saltate Sempre fuori Sempre 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 Rassegnati Si vede che La malvagità Non fa per te Sì Mi rassegno Me ne vado E poi con me Ecco Bravo E vedi di comportarti bene Sì Sparisco Sì Sparisco Oh cacchio Devo fare un rutto adesso Che Che male Mi viene da Un rutto talmente potente Che ha risvegliato Peach La madonna Mario Ciao Finalmente Siamo fuori Luigi Svegliati Siamo fuori E vai Luigi Dora Stella State tutti bene Sono così felice Che cacchio è successo Dove sono Ma siamo Sì Siete usciti fuori da Bowser Soghigno Non ne ha azzeccata una Neanche alla fine Voleva farsi esplodere Ci ha salvati Oh davvero Grazie A tutti Il regno dei funghi è salvo Principessa Principessa Sono così Sono così lieto Sapendovi sana e salva Che gioia Che letizia Ma qualcuno Vuole spiegarmi Perché Mario e Baffetto Verde Sono saltati fuori Dalla mia bocca È una storia lunga E poi Anche se ti spiegassi Non capiresti Ma Ti riconosco Quella voce Cosma Tu sei Cosma Esatto Una di tuoi sgheri Acce del bolino Non è ancora finito Principessa Scappi principessa Mario Luigi Non si preoccupi Mario e Luigi Vinceranno come sempre Mario Luigi In bocca al lupo Adesso mi spacco la faccia Tutti e due Andiamo Luigi Vi siete ficcati nel mio corpo E vi siete fatti i vostri comodi Non vi perdonerò mai 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 E poi mai Rapirò la principessa Pitch una volta per tutte Fatevi sotto Ed è così Che finì Bowser Inside Story Uno secondo me Dei capitoli più belli Della saga Per me Il principale Più bello Rimane Superstar Saga In assoluto Al secondo posto Questo Al terzo Partners in Time Perché non è male Però capiamoci Quelli del 3DS Purtroppo Non mi posso esprimere Il primo capitolo Dream Team L'ho giocato Non è male Però non mi ha invogliato a finirlo Paper Jam D'altro canto Quando l'hanno annunciato Sembrava Una bella idea Però ancora non l'ho provato Non l'ho ancora provato So che Giochi con Mario e Luigi E Paper Mario Fin là Ok Ma A livello di storia Di cose Non so Veramente nulla E non ho idea Neanche di cosa aspettarmi Ma Il fatto solo Che abbiano Semplificato Perché io ho provato Superstar Saga Del 3DS E lo trovo Molto Molto Troppo Semplice A parer mio Io Giocatori di vecchia data Di Superstar Saga Originale Che avete potuto vedere Ho portato qui sul canale Abbiamo fatto una Run veramente perfetta Completa Nel minimo dettaglio E intanto Mario e Luigi Hanno vinto Abbiamo sconfitto Il boss finale Con due attacchi Tre Se vogliamo fare pignoli Cosa che è successa anche qui Ma ammetto che non mi aspettavo Perché da bambino Mi ero preparato Più o meno uguale A questo A questo combattimento E comunque Un bel po' di turni Contro Bowser E lo scuro E lo scuro L'abbiamo fatti Eppure Cavolo È stato Mi sono sorpreso Addirittura io Mi sono sorpreso Addirittura io Intanto Mario Abbiamo vinto Però sì È stato veramente bello Vale la pena Sicuramente Di recuperarli Questi titoli Se avete l'occasione Prendeteli Anche per la musica Mamma mia La musica finale di questo È la più bella Di tutti i giochi A parer mio Di tutti i giochi Questa qui è la Più emozionante La più carica La più Adrenalinica Di tutte le canzoni Nonostante Io come Ho detto Quando abbiamo giocato Partners in Time Non mi ricordassi Effettivamente Delle musiche Cavolo Quella contro La principessa Shrub Anziana Era comunque Una bella musica Era veramente bella Ma Non al pari di questo Non al pari di questo Volevo finire di vedere I titoli di coda Ecco esatto Perché adesso Cioè Bowser Tutto Ma poverino Dai Bowser Si è impegnato Talmente tanto E guarda come L'hanno ridotto Un'altra volta Tra l'altro Come hanno fatto A spaccagli un braccio Shhh Questo è per noi Dio mio Con l'uccellino Della clinica medica Che poi Quell'uccellino lì C'è andato per Mezza missione Voglio andare con loro Voglio andare con loro Basta Finito Il suo Come dire Motivo di essere Nella trama Era finito lì Ok Vabbè come Molti dei personaggi Secondari Alla fine Di sti giochi Servono relativamente A poco Tipo Maestro Todd Non serve a niente Se non in Partners in Time Che con la sua parte Giovania Ci insegna le mosse Però capiamoci Yoshi Purtroppo È molto Secondario In questo capitolo Ci sta Però Non sarebbe stato male Vederlo un po' più Presente Sincero Ok E ora 3 2 1 Vediamo Ora c'è un'altra scena Con Bowser Se non ricordo male Esatto Sua infallibilità Come si sente oggi Noi Vorremmo tornare Nel suo esercito Non siamo mai stati Veramente Dalla parte Di suo ghigno Il nostro cuore È sempre stato Con lei Sua oscurità Consegnerà Arrivo Consegnerà Arrivo Consegnerà Arrivo Dal castello di Peach Che cos'è Cosa cacchio è arrivato Ma che succede Qualcuno sbatta fuori Quell'uccellaccio Sembra che sia giunto Al pacco Del castello di Peach Eh dal castello di Peach Il mittente La principessa Peach Gombronio Tipo tizio Paracaio Cosa ci fate ancora qui Non disturbate Sua crudeltà Consegnerà Arrivo Consegnerà Arrivo Consegnerà Dal castello di Peach Per il grosso Tartarugone tonto Che cavolo è Ciao Che ci fai qua Cosa vuoi Avevo paura Che volessi attaccare Ancora il castello di Peach Così sono passata A dare un'occhiata Con tutto il macello Che è successo Devo prima pensare Al mio castello Per un po' Puoi stare tranquilla Che bella notizia Ma sta zitta E vattene Sì 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 Adesso me ne vado Questo è il regalo Della principessa Peach Non lo voglio Riprenditelo Non lo apre Sua scorbuticità Non lo apre Fatti fatti tuoi Non è niente di meglio Da fare Che stare qui A fissarmi Ehm Non faccia così Anche voi Andate a riparare il castello Possiamo Possiamo davvero Tornare nel suo esercito Sua mostruosità Sì ma fuori dai piedi Dobbiamo prepararci Al prossimo attacco A Mario Grazie Agli ordini Sua maestà Beh Non c'è nessuno qui Bene Apriamo e vediamo Che cosa c'è dai Oh È una torta Allora Sarò nostalgico Ma sentire questa musichetta E legge la La parola fine Mi riporta indietro Di tanto tempo Di tanti ricordi E mi sa E mi fa sentire vecchio Mi fa sentire davvero vecchio Bello però Ti sei dato tanto da fare Come mille formiche Ti mostrerò La tua classe Hai la potenza Di mille cannonieri Davvero eccezionale Mille volte eccezionale Erano mille anni Che non facevo un complimento Ma tu sei un'eccezione Bravo A presto Peccato che in realtà Ci vogliono anni Prima che esca Un altro capitolo Di Mario e Luigi Dopo di questo Però la gente Era felice Era davvero felice Quando sono usciti I titoli per 3DS A me è dispiaciuto Che li hanno semplificati Perché sono veramente Dei bei giochi Davvero Magari in un prossimo futuro Potrei pensare Di portarli Per adesso Dopo i tre capitoli principali Vorrei cambiare un po' Vorrei cambiare gioco È stato veramente bello Bowser Questa è l'ultima volta Che ti vedremo fare Questa Posa Signori È stata veramente Una bella serie Anzi È stata una bella saga Ripresa Dal primo capitolo storico E È stato un bel percorso È stato veramente Un bel percorso Appunto perché Mi è permesso di Rigiocare A dei giochi Che ho adorato E di riscoprire Più che altro I due capitoli del DS Che Era da un bel po' Che non giocavo E effettivamente Alcune cose Non me ne ricordavo Per niente È stato davvero bello Quindi signori Vi ringrazio a tutti Per avermi seguito Come al solito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi Ci vediamo A una prossima serie Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti